Ma ciao a tutti. Oggi il nuovo consiglio letterario è per l'occasione il libro Trasgri, ovvero uno di quei libri che tratta di argomenti anche un filo piccanti e tabù. È un libro che ritengo irresistibile. Ragazzi, ha più di 300 pagine e l'ho letto in una giornata, non mi succedeva da mille anni. Cioè, vi giuro, non riuscivo a schiodarmi da questa lettura ed è una cosa che adoro. Il libro in questione è Uccidi i tuoi amici, di John Neven, uscito recentemente per Einaudi. È in realtà il primo libro finora rimasto inedito in Italia, nonostante sia un cult all'estero, soprattutto nel paese di origine di Neven, autore inglese e più precisamente scozzese. Divenuto celebre principalmente grazie al suo cult A Volte Ritorno, una sgangherata storia sulla seconda venuta di Cristo, che tra X-Factor, wannabe, concerti a base di sostanze malandrine e satira feroce. Non ho ancora letto A Volte Ritorno e questo è il mio primo approccio con Neven, un autore di cui comunque ho diversi libri, ma che non ho mai affrontato finora. È uno di quegli autori che è sempre rimasto nella mia wishlist, proprio per sentito dire, nel senso scrive trame geniali, è un autore molto divertente da leggere, sagace, ironico, anche crudele a tratti e questa cosa mi piace molto. E quindi dovevo iniziare da qualche parte e credo che Uccidi i tuoi amici sia stato un splendido biglietto da visita. Il libro, vi dicevo, è uscito in realtà nel 2008, credo, all'estero, in Italia invece è uscito solo recentemente e io non potevo lasciarmelo scappare. Nel senso che è un romanzo che ha come sfondo il mercato musicale degli anni 90. Raga, ma pensavate veramente che mi lasciassi sfuggire un libro con queste premesse? Soprattutto quando si tratta di un libro feroce, satirico, divertente, ironico, e in cui sfilano in ogni pagina Spice Girls, Robbie Williams, I Radiohead e Zimilia. Eccomi qui. Allora, di che parla Uccidi i tuoi amici? Un romanzo che ho adorato, semplicemente. Mi hanno detto in tanti che stanno uscendo recensioni negative. A me frega niente, nel senso che io ve lo consiglio. Non è un libro che consiglierei a chiunque, ecco, ma lo vedremo nel dettaglio. Il libro racconta la storia di Steven. Steven, diciamo, che è un talent scout in un'importante major discografica. È un romanzo ambientato nel 97, quindi siamo all'apice dell'economia dell'industria musicale. Negli anni 90 c'è stato proprio un picco assoluto in quantità di dischi venduti, ben prima che arrivasse Napster nel 99 e quindi l'inizio dei downloadi illegali di massa e il declino dell'industria discografica, che tuttora attraversa una sorta di crisi che deve fare il compromesso non più con le vendite dei cd fisici, ma con gli streaming, col download legale, Spotify, eccetera, eccetera. È cambiato molto il mercato musicale. Negli anni 90, invece, era tutto feroce, era una guerra continua tra artisti e produttori e tra competitor, soprattutto. Steven è un talent scout che, diciamo, ha occhio, ha orecchio per i talenti, ma in realtà, diciamo, che a lui preferisce buttarsi nello sfarzo di quello che lavorare in quest'industria comportava, ovvero feste trasgressive, abuso di sostanze stupefacenti, rimorchiare come se non ci fosse un domani e concedersi un abito di alta sartoria al giorno. In realtà, però, Steven ha anche fortissime ambizioni e vorrebbe diventare capo della sua industria discografica, un'industria che, dicevo, concerneva alta ricchezza, ma che, allo stesso tempo, un po' come la moda, one day you're in, the next day you're out. In particolar modo, per un talent scout, non imbroccare il disco che vende milioni di copie significa effettivamente correre ai ripari. Cioè, finché ne imbrocchi uno, puoi anche concederti un paio di errori, ma poi sei fregato e sei fuori. Quindi, immaginatevi un tipo di lavoro così competitivo che ti mette contro gli altri, che ti crea anche una grande quantità di nemici e, allo stesso tempo, ti mette in conflitto con i tuoi amici. Il libro ci presenta Steven come un personaggio veramente disgustoso, nel senso buono del termine. Niven è spettacolare nella caratterizzazione dei personaggi ed è proprio grazie a quella che le sue storie funzionano, almeno in questo libro, ma è una cosa che gente che l'ha letto mi ha confermato, nel senso che funziona molto bene grazie a un forte senso dell'humor che ti consente di divertirti da quello che racconta anche quando è sboccato, anche quando non ha filtri, anche quando a volte si addentra nel politicamente scorretto e fa forza su personaggi potenti. Steven è un personaggio potente. Dicevo che è disgustoso, perché effettivamente lo vediamo strafottente, lo vediamo misantropo, lo vediamo fortemente misogino, lo vediamo in costante lamentela verso l'esistenza umana, in costante spirito di superiorità. E perché è irresistibile questo personaggio? Perché è perfettamente coerente, è un personaggio attraverso il quale si studia tutto il mondo circostante. Come narrazione mi ha convinto proprio perché parte col botto e non ha mai cali di ritmo. E questo stile di scrittura mi ha veramente inchiodato alla poltrona, tant'è che vi ho detto che questo libro l'ho divorato in un secondo. Al di là del contesto su cui ci arriveremo dopo, bisognerebbe fare il nome di un altro scrittore che a me piace molto. Quindi se non vi piace questo scrittore, probabilmente non è il romanzo giusto di Niven da cui iniziare. Era la mia prima scelta, perché stiamo parlando di un tema che a me interessa molto, e di un autore di riferimento che comunque mi piace, però sicuramente il nome che viene subito all'occhio leggendo questo libro è British Stone Ellis. Soprattutto American Psycho. Ed è un titolo questo che viene spesso associato a questo libro, perché effettivamente anche American Psycho era una sorta di satira feroce nei confronti, in quel caso, del mondo dei broker, della sete di successo degli anni Ottanta. Qua c'è una sete di successo degli anni Novanta. E come in American Psycho, anche qui ci sono un paio di omicidi belli sanguinolenti. Diciamo che pur essendo cinico, questo libro comunque è molto più light di American Psycho. E ricorda British Stone Ellis un po' perché effettivamente le due narrazioni hanno delle analogie, e anche per il fatto che, ad esempio, British Stone Ellis adora, e a me piace molto questa cosa, prendersi del tempo per creare un contesto pop. Ci sono delle, penso anche a Glamorama, un altro libro che mi è piaciuto molto, ci sono paginate e paginate che narrativamente sembrano non portare a nulla, però creano il contesto. Feste, sfilate di nomi importanti, è quello che succede anche qui. Per gran parte del romanzo noi seguiamo Stephen nel suo lavoro, e quindi, da una parte, le feste selvagge a cui partecipa, e dall'altra invece lui che ascolta disinteressato i demo, che va ai concerti, che mette sotto contratto artisti che lui odia, ma che sa che piaceranno al pubblico, che spera di ottenere comunque dei ricavi effettivi, di alzarsi di posizione nella measure in cui lavora. Ed sono appunto pagine che anche in Niven a volte non hanno valenza narrativa, ma che creano un mondo nel quale ti immergi immediatamente. E soprattutto il mondo che descrive è terribilmente anni 90. Se si è appassionati di musica e si conosce bene il decennio che Niven descrive, questo libro non può non piacervi. Soprattutto quando, essendo ammettato nel 97, che è un anno decisamente importante a livello di vendite musicali, ma anche a livello storico, ad esempio, il tragico incidente di Lady Diana, in questo libro, ha una sua valenza forte. Quindi è proprio il 97, raccontato per filo e per segno attraverso gli occhi di un egoista che vive immerso nella musica e sembra in realtà non concepirla come tale. E che si fa scivolare i fatti grossi addosso per pensare solo a se stesso. Il 97 viene proprio descritto di mese in mese. E vediamo proprio artisti che sfilano, reali o immaginari. Reali, ad esempio, le Spice, gli Oasis, i Radiohead. Ed è divertentissimo vedere i pronostici su come andranno determinati artisti. Artisti che avranno enorme successo qualche anno dopo vengono descritti come dei fiaschi. E artisti che invece non si ricorda nessuno, ma solo io, perché il trash mi perseguita, vengono descritti come ah, il nuovo erede degli Oasis. Che cavolo ne sono? Robbe così. Vi lo giuro, è divertentissimo. C'è una pagina in cui Steven dice, ascoltando l'anteprima di Ok Computer dei Radiohead, questi non andranno più da nessuna parte, falliranno. Il disco è inascoltabile. Ok Computer è uno degli album più venduti della storia. Oppure un altro tizio che dice ah, lei è l'erede di Madonna, venderà milioni di dischi e parlava di Gina G. Ora, io non so se qualcuno di voi sa chi sia Gina G. Io sì, però nessuno se la ricorda come Sylvia Powell. Ma chi è? Vabbè, comunque questi artisti, cioè, ve lo giuro, è troppo divertente vedere come i pronostici musicali sul successo raccontati in questo libro non siano quasi mai andati giù, nel verso giusto. I personaggi immaginari, invece, gli artisti immaginari in questo libro sembrano comunque costruiti effettivamente su personaggi realmente esistenti nella scena musicale. Ad esempio, c'è questo personaggio che è abbastanza importante nella storia che è Rage. Rage è un DJ drum and bass, gli anni 90 significavano anche drum and bass, che appunto raggiunge un grande successo e poi vuole dare alle stampe un disco piuttosto ostico che diventa il cruccio dei produttori e il cui singolo dura più di un'ora e che non vuole tagliare sostanzialmente. Ora, non so se è voluto, ma a me ricorda un sacco ad esempio il musicista drum and bass Goldie, che invece realmente esiste, perché ha avuto un enorme successo col primo album e col secondo ha fatto uscire effettivamente un singolo da più di un'ora che è stata la croce dei suoi produttori ma anche Ellie Crush che viene nominata come cantautrice rock alternative che viene scaricata nessuno le crede poi vende milioni di copie a me ricorda pericolosamente l'anismo reset per dire. Cioè, comunque prende proprio bene quell'immaginario lì. Cioè, c'è uno studio alla base di quel decennio che mi ha lasciato inebetito e che è gran parte del divertimento di questo romanzo. Quindi, quando dico che non è per tutti intendo che sì, magari lo trovate figo divertente eccetera però se avete un minimo di coscienza di come erano gli anni 90 musicali il divertimento diventa dieci volte più grosso secondo me. Quello che ne esce a livello generale è un libro irresistibile per divertimento per ritmo e soprattutto per la satira che è della sete di successo una satira che fa a pezzi effettivamente l'industria musicale e le sue ipocrisie l'illusione di successo degli artisti l'illusione di avercela fatta per i riferimenti pop l'ho trovato veramente un libro immediato ma allo stesso tempo divertente e allo stesso tempo tosto profondo anche falsamente superficiale e il finale che può darsi indignerà alcuni perché ha una chiusa diciamo abbastanza beffarda io l'ho trovata indovinata per tutto il discorso che Niven voleva fare quindi io l'ho amato fatemi sapere voi se vi interessa o non vi interessa io ve lo strastraconsiglio adesso il mio obiettivo è leggermi tutti gli altri Niven subito perché se sono tutti a questo livello a livello di ritmo vuol dire che è un altro autore che è Megasa ma fatemi sapere voi se Niven vi piace non vi piace se avete letto questo libro non avete letto questo libro io vi aspetto al prossimo video vi mando un bacione ciao ciao